Siamo al Custom Shop di Milano, è la prima edizione, bravi, bravi e d'accordo, è un'occasione per poter mettere in evidenza quanto sia importante il fatto di essere italiani e di dare compassione a quello che si mette nell'artigianato. Che cosa ha fatto reference in questa fiera? Il cavo reference, che cosa significa? È un cavo per il musicista che anziché valutare di acquistarne due economici, questo è un cavo che dà affidabilità e qualità, un range da 16 euro fino a 19 euro, tutto italiano dal suo jack tornito, vuol dire che non arriverà mai nel jack dell'ampli o della chitarra, fino al cavo, quindi a chilometro zero italiano in tutti i sensi. Questo prodotto si aggiunge all'ultimo cavo che è stato recentemente presentato e che è diventato il cavo che fa suonare tutti quelli che in pratica avevano dei dubbi sui cavi. La linea si finisce a completare con quello che abbiamo iniziato nell'89, il RIC 01 rosso e blu. Siamo molto onorati di essere riusciti a fare questo sforzo incredibile. Grazie ai lettori e agli utilizzatori di reference laboratory.